La prova politica per la maggioranza del sindaco Lucio Greco, almeno nella seduta di Question Time di ieri sera, sembrava concentrarsi sulla mozione portata in aula dal gruppo di Liberamente. I consiglieri Vincenzo Casciano e Per Paolo Grisanti sostengono la necessità di rivedere il sistema di assegnazione degli incarichi esterni attraverso una maggiore trasparenza. Bisognerà però attendere perché il numero legale è venuto meno prima ancora che si arrivasse alla mozione dei due consiglieri. Non ci sono stati troppi problemi nell'approvare la mozione del leghista Emanuele Labviso che ha impegnato l'amministrazione comunale a prevedere una commemorazione in grande stile per l'ottantesimo anniversario dello sbarco alleato che cadrà il prossimo anno e quella della grillina Virginia Farruggia a favore delle iniziative per il popolo ucraino. I numeri invece hanno iniziato ad essere decisivi quando è stata trattata la mozione della Commissione Istruzione e Servizi Sociali. Il consigliere indipendente Alessandra Acia, vicepresidente della Commissione, ha esposto il contenuto. L'obiettivo è destinare il fondo restante concesso al Comune per l'emergenza Covid a copertura delle spese più urgenti dei nuclei familiari in difficoltà. Circa 240 mila euro su un totale di oltre un milione di euro sono già stati destinati ad un fondo per l'Atari 2021 con vincolo di regolarità contributiva per l'Atari 2020. La Commissione presieduta da Salvatore Escherra di Fratelli d'Italia ha invece portato in aula una proposta che punta ad estendere l'uso delle somme restanti anche per altre spese non necessariamente legate alla sola Tari sui rifiuti. Una variazione che non ha convinto la maggioranza. L'indipendente Luigi Di Dio ha chiesto di mantenere almeno per i fondi di quest'anno la destinazione decisa dall'amministrazione comunale. Ha preannunciato un emendamento firmato da quasi tutta la maggioranza. L'intesa non c'è stata e la Commissione è andata per la propria strada. Alla fine con i voti dell'opposizione la mozione è passata 11 sì e 7 no di maggioranza oltre a due astenuti. Ancora una volta tra senso e una certa libertà di coscienza i progreco non hanno avuto i numeri giusti per far valere quella che dovrebbe essere perlomeno una legge numerica della maggioranza. Non è la prima volta infatti che i progreco vanno sotto quando si tratta di numeri in aula.